Ora lui, buon'avventura, Saponara, andate giù con l'interno destro, scarica per Pirachi, si chiudono le maglie del Real Vicenza, allora l'altro cross dentro, l'anticipo su Pierozzi e la rete del 2-0 del giovane esterno della Fiorentina, arriva al 42esimo minuto del match. Ha spegnato! È cambiato un po' naturalmente anche dopo il gol il mood di Vicenza che probabilmente provava a restare il più possibile dentro la partita prima di vedere un po' cambiare quel risultato e però rivediamo anche qui invece la voglia di Viola di andare a trovare il gol.